Dopo la Leoncino 500 arrivano i cuccioli, Leoncino 250, ma come vedete alle mie spalle le novità a EICMA sono davvero tante. Ce le presenta Gianni Monini, Sales Manager per l'Italia di Benelli. Siamo qui allo stand di Benelli ad EICMA 2017 e quest'anno dopo TRK, dopo Leoncino, presentiamo 7 nuovi modelli. Abbiamo, partendo dall'alto, un 750 nuovo bicilindrico, presentiamo la nuova famiglia di Leoncino che continua il Trail e il 500 e abbiamo il Leoncino 500 Sport, una redizione dei vecchi modelli con motore sempre bicilindrico. Abbiamo il Leoncino 250, qui si guida una versione anche 125. Abbiamo l'Imperiale 400 e un monocilindrico che proponeva un prezzo particolarmente interessante. Abbiamo il TRK 250, è un veicolo e un monocilindrico, così come appunto con il Leoncino, quindi abbiamo del TRK di Leoncino equivalenti di cubatura più bassa. Nel Cisipunto abbiamo il 402S, che è una cruiser di media cilindrata, anche questa proposta è molto interessante secondo noi, e per finire un 125, la VN 125, che arriverà intorno ai primi mesi dell'anno, a prezzo estremamente concatenziale. Con questo completiamo la gamma verso il basso, ma anche verso l'alto. Siamo contenti, sfiduciosi, siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. Grazie. Grazie. Grazie.